Buongiorno a tutti a tutti, io sono Elisa e sono Sales Specialist per Too Good To Go. Too Good To Go è la prima piattaforma al mondo contro lo spreco alimentare. Too Good To Go è un'applicazione che mette in contatto i punti vendita che hanno una minima rimanenza alimentare a fine serata con le persone che desiderano acquistarla e consumarla. Noi lo chiamiamo un progetto win-win-win proprio perché a vincere è il punto vendita che riesce a smaltire il prodotto che altrimenti avrebbe buttato, recuperando anche a livello economico, riuscendo magari a ripagare la materia prima e vincendo anche un potenziale nuovo cliente che assaggia i suoi prodotti. Dall'altra parte la persona che acquista ovviamente scopre un nuovo punto vendita, ha un pasto o anche di più a volte pronti per essere consumati con pochi euro. E poi ovviamente vince anche l'ambiente perché ogni Magic Box equivale circa a un chilo di cibo e quindi ha due chili e mezzo di CO2 equivalente che vengono risparmiati da essere emessi nell'atmosfera.